Ci siamo lasciati alla fine dell'ultima lezione, riproponendoci di capire insieme il significato di espressioni come questa, dove si fa uso di un operatore che assomiglia al lore logico, quello per intenderci che utilizziamo un'istruzione tipo if z maggiore di un certo valore, or s maggiore di un altro valore. Questo è l'or logico. La tabellina di verità ci ricorda che l'espressione condizionale, nella sua interezza, è vera se almeno una delle due espressioni condizionali prese singolarmente è vera. Questo or, introdotto dall'operatore pipe singolo, non doppio, si diceva assomiglia ma ci porta in un reame completamente diverso, quello delle operazioni bit a bit, quello in cui andiamo a spaccare un byte nei suoi componenti e non a caso fa apprezzare il C o il C++ come un linguaggio adatto per lo sviluppo di sistemi operativi, dove andare a spaccare il bit, come si dice, conta e come. Per meglio capire come funzioni, ho preparato questo schema, dove calcolerò l'or bit a bit su due byte. Questo è il primo byte e questo è il secondo byte. Il risultato chiaramente lo vedremo qui sotto. Si chiama bit a bit perché semplicemente l'operatore viene applicato prima sui due bit in posizione 0, poi sui due bit in posizione 1 e così via, fino a quello in posizione 7, a quelli in posizione 7. Qui il risultato. Praticamente abbiamo come risultato 0 solo se entrambi i bit su cui stiamo facendo l'or bit a bit sono 0. Quindi 0 con 1, 1, 0 con 0, 0, 0 con 1 è ancora 1, 0 con 1 è ancora 1, 1 con 1 è ancora 1, 1, 0, 1, 1, 0 e 0, 0, 0. Guardate ora cosa succede se utilizziamo delle variabili intere con dei valori corrispondenti a delle potenze esatte del 2, come abbiamo visto l'altra volta per il 8 at end come valore del file mode 2, binary 4, in 8 e così via. Ogni volta ci spostiamo di una casellina e nella posizione corrispondente alla potenza del 2 che ci serve, qui ovviamente dovete macinare un minimo di numerazioni binarie altrimenti non potrete mai seguire quello che sto dicendo. Dicevo ogni volta che ci si sposta, questo è il 2 in binario, questo è il 4 in binario, tutti gli altri devono essere 0, questo è l'8, ogni volta in pratica che ci spostiamo di una posizione a sinistra, uno shift di una posizione a sinistra, il valore viene moltiplicato per 2 fino alla trunk che non è 16 ma 32. Usando adesso l'operatore OR bit a bit possiamo sommare per così dire due o più tra queste configurazioni ottenendo un risultato che ci fa capire facilmente quali sono le modalità attivate in contemporanea. Ad esempio, posso comandare at end OR bit a bit binary, se facciamo la somma bit a bit, quindi l'OR bit a bit, che cosa otteniamo? Faccio un po' di spazio. scopriremo che otterremo la configurazione di bit corrispondente al numero binario 6, infatti 0 e 0 ottengo 0, 1 e 0 ottengo 1, 0 e 1 ottengo 1 e poi palesemente tutti gli altri saranno degli zeri perché sono tutti una somma di 0 con 0. ecco, ho ottenuto una configurazione di bit, da cui è facile capire che ho attivato la modalità 8 che corrisponde a questo 1 ma anche binary che corrisponde a quest'altro 1, cioè con un solo valore tengo traccia delle combinazioni degli altri byte. abbiamo però un problema, l'operatore bit a bit è definito sugli interi e questo e la parte di destra dal punto di vista del compilatore non sono degli interi ma appunto dei file mode ecco perché se come ho visto con voi alla fine della lezione scorsa si tenta di compilare anche se a livello intuitivo, logico per fare un gioco di parole con gli operatori ci sta tutta questa espressione a livello di compilazione rispetto dei tipi degli operandi quindi no dobbiamo insegnare al C++ come si fa a fare l'or bit a bit non sugli interi ma su i valori tipo file mode che poi tanto noi sappiamo essere degli interi e lo potremo fare in modo molto elegante sfruttando una delle caratteristiche sintattiche più interessanti del C++ cioè il cosiddetto overload il sovraccaricare di significato uno degli operatori in pratica ti spiego io che cosa vuol dire fare l'operatore bit a bit or tra due valori di tipo file mode ma capite non è che andremo a scrivere una funzione a cui darò come parametri due valori tipo file mode e all'interno farò l'or bit a bit no no io potrò proprio scrivere così cioè aggiungeremo proprio una specie di nuovo operatore al linguaggio prima però volevo verificare con voi come il risultato di un orbit a bit tra il 2 e 4 come rappresentato prima nel disegno porta al 6 ho commentato questa riga perché darebbe errore non abbiamo ancora sistemato chiaramente il problema provo ad eseguire per ottenere come ci si aspettava il 6 ed ecco come si fa ad introdurre un nuovo operatore che ha la stessa notazione sintattica dell'orbita bit ma che opererà tra due oggetti non di tipo int ma tra due file mode si deve definire una funzione un po' speciale intanto perché come nome a quello di un operatore standard potrei anche ridefinire il più o il meno o il diviso dare un significato ad esempio alla sottrazione tra due string qua sto dando un nuovo significato invece proprio all'operatore che utilizzo anche per l'orbita bit la funzione come ci si può aspettare riceve come parametri i due valori di tipo file mode sui quali dovrò dare un significato all'operatore come valore mi restituisce ancora un file mode ed è importante anche se quello so che saranno intero io devo forzare il compilatore a trattare il risultato dell'operatore applicato a due file mode come vorrei fare qui ad essere ancora un file mode perché altrimenti se non lo fosse il compilatore rifiuterebbe il secondo parametro perché per chiamare la file open questo signore deve essere riconosciuto inteso come un file mode quindi devo fare in modo scusate il gioco di parole tra inglese e italiano che l'or bit a bit tra due valori file mode sia ancora appunto un file mode l'inline non ha direttamente che fare con la sostituzione anzi arricchimento di significato dell'operatore or bit a bit ma ha solo a che fare con una questione eventualmente di efficienza non penso di averlo mai spiegato però le funzioni inline sono particolari perché il compilatore normalmente cosa fa? traduce in codice macchina la funzione e poi la fa funzionare come una funzione tutte le volte che viene richiamata si fa un salto al punto in cui è stato messo il codice della funzione quindi non si ripete tante volte il codice quella funzione viene tradotto una volta sola e si salta ad eseguire quella parte di codice però perdendo del tempo perché prima di fare il salto il compilatore organizza nel codice linguaggio macchina tutte le istruzioni che salvano i registri del microprocessore così come sono appena prima di andare ad eseguire la funzione il codice della funzione e possono anche essere insomma qualche decina poi deve salvarsi il punto esatto di ritorno quando si incontra il return della funzione dobbiamo ritornare magari in un punto qualsiasi di un lungo programma da cui abbiamo invocato la funzione poi deve sempre quando viene effettuata una chiamata preoccuparsi della questione dei parametri i parametri indicati per valore vanno copiati sullo stack e comunque almeno l'indirizzo di quelli passati per reference va comunque copiato sullo stack e quando si ritorna dalla funzione dobbiamo anche pulirlo questo stack insomma questo cambio di stato ha un prezzo in termini computazionali non proprio indifferente cosa che non dovrebbe avere come non ce l'ha quando in un ciclo for ripetiamo tante volte una somma o una moltiplicazione bene l'idea è un po' quella a costo però di allungare un po' il codice tutto per spiegare questo in line che in realtà non si fa una vera chiamata di funzione il codice tradotto viene messo in tutti i punti quindi ripetuto ecco perché si allunga il codice con l'inline dove si fa uso di quella funzione quindi non un salto ma metto in linea con il resto del codice quindi senza bisogno di fare tutte quelle operazioni di salvataggio di cui dicevo prima l'esecuzione risulta più rapida però a discapito di una maggiore dimensione dell'eseguibile ok questa è una scelta di per sé funzionerebbe anche senza inline scelta che è abbastanza comune quando si tratta di fare l'overload di un operatore quindi questa parte qua realizza quello che è chiamato uffa passiamolo qua allora overload sovraccaricamento il trucco consiste nel fare un cast a int ho lasciato qua questa forma che ho trovato in un esempio perché è interessante da spiegare non ho avuto mai modo di discutere più di tanto sui nuovi tipi di cast più sicuri che sono stati introdotti con il C++ rispetto al semplice cast che avrei potuto scrivere così int a per forzare a ad essere considerato un intero questa modalità per il caso in questione ha il pregio di rendere molto più esplicito quello che si sta facendo e dà la possibilità a colpo d'occhio di riconoscere più facilmente le forzature di tipo poi molto altro ci sarebbe da dire ma esolo un po' dagli scopi di questa questa lezione però ogni tanto mi piace introdurre qualche aspetto sintattico nuovo almeno per mettervi la cosiddetta pulce nell'orecchio poi una ciliegina tira l'altra si va a guardare con google e si imparano cose interessanti quindi di fatto qui sto semplicemente forzando il compilatore a considerare sto dicendo guarda che io so quello che sto facendo a so che sotto sotto è un intero o so comunque che è possibile considerare un intero senza problemi di fatto sappiamo che è un intero la stessa cosa la si fa con il secondo parametro che rappresenta in pratica qui nella chiamata questa parte e una volta che i due operandi sono interi allora posso applicare l'operatore standard or bit a bit questo so che mi genera un numero ma per farlo accettare come risultato alla funzione open che vuole un file mode qua applico ancora una volta sul risultato un cast a file mode un po' come se avessi scritto int e poi tra parentesi l'espressione che si voleva forzare ad essere un int ed è un altro modo ancora per indicare un cast cioè scrivo qua sopra posso o scrivere così int a int a ed è una forma di cast ma una forma equivalente quella chiamata funzionale perché ha la stessa notazione di un richiamo di funzione ed è questo int è poi come parametro l'espressione che si vuole forzare ad essere un int qua sotto nel return sto usando questa non ho int ma ho bisogno che il risultato di questa operazione venga forzato ad essere un file mode e quindi file mode e poi notazione funzionale tra parentesi l'espressione da forzare manca solo la verifica finale se tutto ciò funziona passando l'orbita bit tra il binary che ha come valore 4 e l'in che ha come valore l'8 in pratica ma solo perché i valori sono stati rappresentati con potenze del 2 tra di loro separate tra loro quindi separate otterremo la somma in pratica 8 più 4 12 vediamolo qui dove come unica istruzione della mia finta funzione file open chiedo semplicemente la stampa del parametro mode 12 la vera funzione open ricevendo la somma in questo modo tra virgolette potrà poi estraendo bit a bit andando a scavare nel parametro che riceve dirà ah guarda che c'è un bit in seconda posizione vuol dire che deve essere attivata la modalità at end oppure guarda che ce n'è una in quarta posizione in quinta posizione significa che quella è la potenza quarta del 2 la quarta 16 vuol dire che è stato attivato invece l'out e se ottengo 20 estrarrò prima il bit corrispondente a questo out più binary con un solo parametro posso ottenere una qualsiasi combinazione di tutti gli altri che è di per sé un risultato certamente interessante importante per fare